Ben a tutti ragazzi, qui è Dora Franco di Palla e oggi siamo qui con un video davvero speciale perché siamo qui per festeggiare diciamo il raggiungimento dei 1000 iscritti dico siamo perché non sono io che ho raggiunto i 1000 iscritti ma è solo grazie a voi che siamo diventati una piccola comunità, voi seguite i miei video, io cerco di accontentarvi quindi siamo appunto una piccola comunità che collabora alla fine divertirsi perché è questo quello che spero che voi facciate, tu sia vi divertiate o comunque capiate o scopriate qualcosa di nuovo e che non sapevate abbiamo raggiunto i 1000 iscritti e vi ringrazio tantissimo vi ringrazio, lo dirò una marea di volte in questo video ma è così davvero anche perché ultimamente con sincerità non ho più ringraziato tanto come facevo prima un po' perché ho perso di vista quello che è il canale e gli iscritti e non mi ero neanche accorto di aver raggiunto in tal traguardo in così poco tempo io mi ero confermato dal video di 300 iscritti che avevo fatto a febbraio e se pensiamo che adesso a giugno siamo a più di 1000 davvero mi viene un colpo al cuore non posso fare altro che ringraziarvi tantissimo come avete visto vi fanno un attimino della mia situazione del canale come avete visto ho iniziato da un mesetto, un mesetto e mezzo a fare video su Clash of Clans a quanto pare la serie vi piace è una cosa un po' particolare quando trattano in molti questo argomento per cui spero che piaccia e che aumenti appunto gli iscritti e quindi dirà una mano anche a me a crescere dalla community di Youtube non abbandonerò video che facevo prima come ad esempio Minecraft infatti avete visto che ho fatto un paio di video di Minecraft ultimamente inizierò o meno un programma di iniziare una nuova serie su Minecraft con dei miei amici ma se vorrete anche con voi adesso sto studiando un po' prima metto un po' giù le basi della serie oppure altri giochi e comunque come avete capito questo è un canale molto vario che non parla solo di un argomento e basta ma di molte cose per cui continuerò su questa falsa mica come avete letto dal titolo è comparsa la parola contest ma quello che voglio fare non è proprio un contest ma è una cortesia che vi chiedo personalmente che poi avrà anche delle percussioni su di voi cosa vi chiedo come avrete visto la mia super intro ecco questa è la mia intro che vedo che la conosciate un po' tutti che si è descritti da tanto la mia intro è un po' pietosa adesso pietosa credo di averla fatta con Windows Movie Maker per dirvi quindi proprio davvero no forse Movie Maker no comunque quei primi auguri di quello di Sony Vegas che stavo utilizzando quindi capite bene che non è poi così elaborata vi volevo chiedere quindi se qualcuno di voi è un po' più esperto ad utilizzare programmi come Cinema 3D o quelli che sono Adobe Aterefez ecco avete capito se volevo darmi una mano magari a fare una nuova intro per il mio canale le regole cioè le regole diciamo le istruzioni sono abbastanza semplici ovviamente ci fate un intro di intorno ai 10 secondi quindi non troppo lunga è la stessa lunghezza di quella che avevo prima più o meno certo se fate 8 secondi o 12 secondi non è che la ti butto via solo che tenetevi in quel range di 10 secondi perché non sia noiosa ma neanche insensata e inutile è una bella intro quindi magari con qualche effetto eccetera se riuscite a tenere la musica di sottofondo la stessa musica che utilizzavo prima peraltro mi sono accorto che è anche la base di una canzone di salmo per cui non ricordo una roba degli anni se non me la ricordo ma sinceramente neanche lo sapevo quando l'ho scelta e se riuscite ad utilizzarla che è una musica storica per il mio canale altrimenti non fa niente ragazzi era solo una piccola malizia che chiedevo caricatela sul vostro canale youtube e io poi scaricherò il video oppure utilizzerò il vostro video e la inserirò nei miei video appunto voi direte cosa ci guadagno io a fare la intro sto sfigando perché c'è soltanto 1000 iscritti e niente beh ci guadagnate innanzitutto che vi faccia una sponsorizzazione gratuita fino a che manterrò con la intro almeno credo perché metterò nella descrizione intro di o creata da link del vostro canale quindi tutti quelli che guarderanno la descrizione magari cliccheranno sul vostro link sul link del vostro canale youtube e raggiungeranno appunto il vostro canale magari si iscriveranno ci interesseranno eccetera e questo ok potrebbe essere già una mano contando che adesso ho soltanto 1000 iscritti che non sono pochissimi però non sono neanche un'enormista appunto magari crescendo diventerà sempre più importante questa sponsorizzazione e come seconda cosa avete visto che spesso sponsorizzo io stesso un mio video su come guadagnare gemme gratis utilizzo un'applicazione che si chiama AppBunti e questa applicazione mi ha regalato un codice di 10 dollari per Google Play quindi io posso darvelo potete usare non so anche voi per Clash of Clans 10 dollari vi avviso che non sono 10 euro ma sono circa 8 euro e qualcosa se non sbaglio io ve la regalo ve la metto a vostra piena disposizione quindi chi mi creerà la intro più bella scelta da me avrà sponsorizzazione e questi 10 dollari di Google Play che comunque sono meglio di nulla quindi vi ringrazio di nuovo per i migli iscritti ricapitolando le regole per la intro fate una bella intro 10 e 10 secondi caricatela sul vostro canale condividetemi il link nei commenti lasciate un bel like a questo video iscrivetevi al canale ed entrate a far parte di questa mini comunità di mille e spero che diventeranno di più iscritti e ci vediamo alla prossima è tutto la spra è tutto ciao 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 Grazie a tutti